Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 controllo della velocità tra Incisa Reggello e Firenze Sud, in direzione Firenze. Sulla FIPI-Li segnalato personale su strada per lavori, in direzione Firenze, tra Livorno e Darsena Toscana Est. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze, per i lavori alla linea 2 della tranvia, in via di Novoli, nel tratto da via Tacchinardi a via Demidoff, restringimento di carreggiata fino al 4 settembre. Chiudiamo con il meteo, il Lamma prevede per oggi in Toscana cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in aumento fino alle punte di 36-37 gradi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!